Ieri sera a Torino c'erano due piazze, una piazza fatta di gente per bene, di lavoratrici, lavoratori, di imprenditori che orolavano legittimamente la loro rabbia, la loro paura e la loro preoccupazione. A quella piazza noi abbiamo dato ascolto, li abbiamo incontrati, facciamo nostre le loro preoccupazioni. Anzi, io personalmente faccio mia la loro rabbia per trasmetterla ancora una volta al Governo, così come ho fatto sabato e domenica, così come ho fatto insieme agli altri Presidenti di Regione ed invito il Governo a valutare all'interno del DPCM ultimo quelle correzioni che noi come Regione tutti insieme abbiamo proposto, perché noi vogliamo il rigore assoluto per la tutela della salute, la vita viene prima, ma vogliamo anche il buonsenso di non uccidere alcune categorie economiche, le palestre, i bar, i ristoranti, all'interno dei quali si svolge un'attività in sicurezza, dove sono stati fatti investimenti per svolgere attività in sicurezza. Poi c'era un'altra piazza, una piazza dove c'era qualche decina non di manifestanti, ma di delinquenti, di persone che hanno rotto, distrutto, spaccato, rubato, all'interno delle vetrine, all'interno dei negozi, all'interno di quelle attività commerciali che proprio sono quelle che oggi urlano il loro disagio, le loro difficoltà. Ebbene nei confronti di Costoro non ci vuole nessun tipo di comprensione, ci vuole il rigore assoluto, ci vogliono punizioni esemplari, perché la cosa più grave è utilizzare le paure e le angosce reali delle persone di oggi, delle aziende, per usarle come alibi, per trasformarle in una violenza inaccettabile, nel saccheggio. Torino oggi in alcune vie è stata saccheggiata. Ecco, tutto ciò non possiamo accettarlo, tutto ciò dobbiamo condannarlo con forza. Ma dobbiamo anche ricordare che queste persone sono una minoranza, che non c'entrano niente con quella piazza triste perché aveva un'angoscia forte dentro, ma quella piazza che io porto con me, come Regione Piemonte, in tutti i tavoli di trattativa con il Governo, perché ci siano risposte concrete, chiare ed immediate nei confronti di queste attività. Grazie.